Marcosости.it Moda sostenibile, esiste. Spesso, spesso, leggiamo chiama questa parola ormai quotidianamente, se non 3-4 volte al giorno, ma, quando leggiamo questa parola forse c'è la definizione sbagliata. Quello che ho visto nel mio percorso è che quando viene data la definizione sbagliata ad un termine spesso questo si traduce in politiche sbagliate. E se guardiamo alle politiche di sviluppo sostenibile che l'industria della moda che ormai parla di sostenibilità da ormai da sette anni ha messo in atto negli ultimi anni devo dire che uno, due, tre dubbi dovrebbe venirci rispetto alla concreta efficacia di quello che ha fatto perché se ne parla ormai da dieci anni ma vediamo che da un lato le emissioni di C2 non fanno altro che aumentare, da un lato il divario sociale, le ingiustizie sociali nei confronti di chi crea i nostri vestiti non fanno altro che aumentare. Ci siamo venduti e questo me ne sono reso conto negli anni anche io sbagliando ci siamo venduti per anni l'illusione che bastasse una tecnologia, un materiale, un processo innovativo da inserire nel prodotto per immediatamente gridare alla maglietta sostenibile, al jeans sostenibile perché sì magari oggettivamente arriviamo poi a realizzare un prodotto che secondo certe dimensioni dal punto di vista del consumo idrico, del consumo energetico abbassa l'impatto ambientale ma quando questa maggiore efficienza viene utilizzata e sfruttata come giustificazione per continuare, perpetuare un business model che si basa sostanzialmente sulla produzione non essenziale e esponenzialmente crescente di capi di abbigliamento, abbiamo tutti il termine di strapieni, allora l'impatto assoluto in realtà aumenta e quindi come fare? Io mi occupo di moda sostenibile, sono un ex in realtà responsabile della non sostenibilità del settore e quando mi sono trovato di fronte al problema ho detto se le politiche non funzionano bisogna per forza di cose ripartire dalla definizione che cosa vuol dire sostenibilità. Nel diciannovesimo secolo un signore tedesco, il von Karlowitz, utilizzò per la prima volta un termine nachhaltigkeit che significava per lui una sorta di rigenerazione della foresta dove bisognava essere attenti, stare molto attenti a ripiantare ogni singolo albero che veniva tagliato per supportare quella che era un'industria di cui lui era corresponsabile, quella mineraria. Si parla quindi di rigenerazione, diciannovesimo secolo. Un secolo dopo una delle prime definizioni politiche. Il Brundtland report nel 1987 dice attenzione sostenibilità è ogni azione che ci consenta a noi esseri umani di vivere il nostro presente e al tempo stesso garantire alle generazioni future di fare quella stessa azione domani. Entrambe le definizioni nel mio percorso mi hanno aiutato effettivamente a capire come essere disruptive nei confronti dell'industria della moda, però 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 non sono esaustive. La prima perché non tiene conto del fatto che non poteva farlo nel XIX secolo che i limiti fisici della terra ormai sono incapaci di rigenerare le nostre risorse. Siamo arrivati a un limite tale per cui è impossibile continuare a rigenerarsi e stare al passo con questi tassi di crescita così elevati, così intensi che il nostro sistema economico impone. Dall'altro invece abbiamo un modello fortemente antropocentrico. Si parla dell'uomo, si parla delle azioni dell'uomo, della capacità dell'uomo di comprare azioni oggi senza interferire con le azioni dell'uomo domani. E l'ecosistema? Non ci si pone neanche il dubbio che forse le azioni dell'uomo potrebbero interferire invece con altre specie viventi che devono essere considerate al pari, eque all'essere umano? E che le nostre azioni su quell'ecosistema potrebbero in qualche modo interferire con le nostre? Allora negli anni inciampo per caso in un'altra definizione, qualche passo indietro rispetto a quella del Brunt, la delle porte negli anni 70, che sono stati anni speciali perché per la prima volta tantissimi artisti, filosofi, scrittori, critici iniziano ad interrogarsi su quali potessero essere gli effetti di questo boom economico che improvvisamente il mondo occidentale inizia ad alimentare. E uno tra tanti, questo filosofo tedesco Jonas, dice in modo molto semplice, sostenibile ogni azione che è compatibile con la preservazione della vita sulla terra, di una semplicità disarmante, ma in tre parole ha detto tutto. In prima battuta si rende conto che l'essere umano per la prima volta è arrivato, grazie all'innovazione tecnologica, ad un punto tale da essere in grado di interferire con degli equilibri ecosistemici compiendo delle azioni. E si rende conto che l'essere umano così facendo, distruggendo l'ecosistema di cui parte, e ripeto, non solo è parte integrante ma è parte equa rispetto a tutti gli altri organismi, potrebbe in qualche modo inficiare sulla stessa sua sopravvivenza, commette un atto suicida. E la moda rispetto a tutto questo come si pone? Sostenibilità vuol dire tutto questo, moda sostenibile, quindi dovrebbe essere, la maglietta che ho addosso, il paio di pantaloni che sto indossando dovrebbe essere prodotto in modo tale da garantire, essere compatibile con la preservazione della vita sulla terra, ed effettivamente è così? Quando guardo quello che indosso dico ho una camicia di lino, cotone organico, pet riciclato, sono ingredienti materiali che vengono bollati come sostenibili oggi. Però se guardo un po' più a livello microscopico, quello che sto indossando, sto indossando terra, acqua, aria, energia, ma non sono gli stessi ingredienti che utilizziamo per fare il pane, solo che da un lato abbiamo un'industria, l'industria alimentare che effettivamente serve per garantire la sopravvivenza sul pianeta, il pane, l'acqua, per supportare la vita di 8 miliardi di persone sul pianeta, quasi 10 miliardi o mai fra qualche anno. Dall'altro invece abbiamo un'industria che, ecco il primo dato, stiamo arrivando ragazzi a 102 milioni di tonnellate di vestiti che utilizzano risorse essenziali per garantire la vita sul pianeta, a che pro? A questi livelli? È chiaro allora che anch'io sbagliando, ripeto, perché siamo in transito e quando si è in transito bisogna fare ricerca, continuare a studiare, anch'io sbagliando mi rendo conto, cavolo, ma il prodotto da solo non sarà mai in grado di realizzare la moda sostenibile. Il materiale non può risolvere la promessa di sostenibilità, è il sistema che porta allo sviluppo del prodotto, che deve contemplare dimensioni sociali, dimensioni ambientali, è quel sistema lì che può realizzare un prodotto che è manifesto della parola sostenibilità, partendo dal rispetto sociale e capace di restare entro dei limiti dei conflini planetari che sono fisici, esistono e oltre quelli non possiamo andare. E il sistema attuale, ve lo dico già, è incapace di far questo. Perché? Perché alla radice è proprio stato disegnato da noi in modo completamente sbagliato. Non metto in dubbio, e ancora oggi in realtà esistono dei vestiti che effettivamente contribuiscono a generare ricchezza, ricchezza sociale, ricchezza culturale, ricchezza estetica, ricchezza per la comunità che le hanno creati, esistono. Ma ad un certo punto nella storia si è anche scoperto che l'industria tessile è un'arma micidiale, estremamente efficace se si vuole anche arrivare ad accumulare capitale e ricchezza. E forse l'errore sistemico, l'errore proprio progettuale che è stato fatto è che nel XVII secolo si è disegnato un sistema basandoci quasi esclusivamente su quest'ultimo perno, quello economico finanziario, la crescita ad ogni costo. Spesso attribuiamo la nascita delle fast fashion a qualcosa di più o meno recente, vent'anni fa. In realtà il seme del fast fashion, cioè del modello di business che rende l'industria così poco sostenibile oggi, è stato piantato nel XVII secolo, dal re Luigi XIV. Il re Luigi XIV, il suo ministro delle finanze, Jean-Baptiste Colbert, si, me le immagino io così, si sedettero a tavolino e realmente iniziarono a pensare a come sorvastare la potenza spagnola che in quel tempo era veramente la più grande potenza mondiale. E decisero di investire nella produzione di un'industria locale, quella tessile, creando il distretto del lusso francese, ma investire nella produzione non basta, bisognava alimentare la domanda, la domanda non c'era e quindi che si fa? A tavolino si crea l'obsolescenza programmata della moda, ovvero si creano due stagionalità, primavera, estate e autunno-inverno, e si obbligano i nobili di corte a cambiarsi il guardaroba almeno due volte l'anno, anche se non ne avevano assolutamente bisogno. Non potevano credo immaginare che qualche secolo dopo saremmo arrivati a 52 collezioni l'anno e centinaia di milioni di tonnellate di vestiti, ma il seme è stato piantato lì. Il sistema di come funziona la moda oggi è qualcosa di radicato ed è da lì allora che bisogna partire per cambiarla. Abbiamo capito qual è la definizione e con la definizione consapevole di cosa significa sostenibilità ho iniziato a prendere un percorso per metterla in discussione. Però non si può cambiare quello che non si vede. Ed non è così facile capire quali sono le implicazioni sistemiche, sociali e ambientali di ogni singola maglietta che viene messa sul pianeta ed ecco che arriviamo a questo schema qui, anche qua di una semplicità estrema ma che riassume molto bene come si comporta l'industria della moda. Allora immaginiamo che io sono la moda, siamo in un mondo fashion centrico, io sto lì. Io per produrre tutte queste milioni di tonnellate di vestiti ogni anno attingo ad un cerchio esterno, natura, quello verde, per prendermi acqua, terra, aria, energia, risorse animali, magari se parlo di lana, tutto un processo estrattivo che deve poi essere trasformato. È ancora un'industria fortemente manifatturiera ed ecco che il cerchio intermedio, quello blu della società, trasforma questi elementi naturali, li manipola, mette a disposizione la loro cultura, il proprio tempo, la propria esperienza, per consentire a me, che sono l'industria della moda, di creare i capi che ho addosso. A questo punto io cosa faccio? Devo in qualche modo dare un output al sistema per essere sostenibile. E attenzione, in fisica e natura un sistema fuori da un asse di equilibrio, cessa resistere in pochissimi secondi. La moda è sostenibile? È equilibrata? Sono andato a vedere gli output e se guardiamo cosa restituisce il sistema sociale ci rendiamo subito conto che c'è un disequilibrio sistemico pesante, perché se il primo output, ovvio, ce l'abbiamo tutti addosso, nessuno è nudo qua dentro, sono i vestiti, però a queste quantità forse abbiamo superato il limite, forse l'industria è cresciuta di più della sua funzione, stiamo appellando di centinaia di milioni di tonnellate di vestiti, al 70% composti da fibre fossili, poliestere, nylon, non riciclabili che possono impiegare fino a 400 anni per degradarsi. Una delle discariche tessili più importanti al mondo, non perché sia purtroppo importante per la gravità della situazione, sta in Ghana, a Cantamanto, 15 milioni di vestiti ogni settimana, che transitano dal mondo occidentale e vengono portati là, i nostri scarti. Qual è il secondo output? C'è la parola povertà, perché uno dice, beh, ma l'industria della moda dà lavoro a tanta gente, è vero, ma se guardiamo i dati abbiamo un numero ristretto di persone, sempre meno che prendono molta di questa ricchezza, parliamo di un'industria da qualche trilione di dollari di fatturato, e se nella lista delle persone più riche del mondo ci sono molti amministratori delegati che rivestono cariche importanti all'interno di grossi gruppi della moda, la contropartita sono 65 milioni di donne che vivono in condizioni di povertà estrema. Non solo mano d'opera sottopagata, ma anche una nuova forma di scavitù moderna, e questo non va bene. Il terzo output? Problemi di salute. Problemi di salute dovuti in primis allo stato di faticenza, spesso in cui le persone lavorano negli stabili o nei campi, nelle fattorie nelle quali lavorano per produrre i nostri vestiti. Seconda battuta per come i vestiti vengono realizzati, facciamo un uso abominevole di sostanze chimiche, di tutta una sorta di schifezze che vengono messe nei vestiti che interagiscono negativamente con il nostro epiderma, con la nostra pelle che assorbe. E poi non ci pensiamo neanche, ma spesso e volentieri il problema non finisce lì, perché statisticamente 7 su 10, il 70% di questa stanza, ha dei vestiti che ogni volta che vengono lavati rilasciano sostanze tossiche nell'ecosistema, microplastiche. Quindi dal punto di vista sociale stiamo restituendo qualcosa di negativo, dal punto di vista ambientale è purtroppo la stessa identica cosa, depoperimento delle risorse, inquinamento e abbiamo un grosso problema di scarti che non sono riciclabili. E quindi da dove partire? Adesso mi direte, ma quindi Matteo che lavoro fa? Sembra un problema impossibile da risolvere, vero? La cosa bella è che da questa analisi, comprendendo il problema, si possono tracciare delle direzioni per la risoluzione, possiamo esserne tutte e parte. Se il 99.9% di tutte le industrie di moda oggi si stanno concentrando nell'ultima dimensione, creare capi di abbigliamento con materiali tessuti capaci di ridurre il loro impatto ambientale, io vi dico, partiamo dal primo punto di contatto dell'industria della moda, dalla società. Se non risolviamo le ingiustizie sociali sarà impossibile realizzare la transizione ecologica di cui tanto parliamo. Se non mettiamo la filiera produttiva nelle condizioni di potersi permettere dal punto di vista psicologico ed economico di investire tempo e denaro per abbassare le emissioni di CO2 e mettere un filtro ai propri scarichi, è inutile che ci infessiamo dei gol per rendere i nostri vestiti più green, che è un oggettivo che abborro. Bisogna risolvere la crisi sociale, la crisi ecologica è in primis una crisi sociale. E la cosa meravigliosa di questa cosa che ho detto è che se, a meno che non lavoriamo nell'industria della moda, è difficile che possiamo trovarci a quattro occhi con i direttori creativi o con chi acquista e tessuti per influenzarli ad acquistare prodotti più responsabili, tutti noi possiamo e abbiamo un'arma, è la nostra voce, a nostra disposizione per risolvere invece la crisi sociale. Quando entriamo in un negozio, quante volte ci è capitato di chiedere ma chi ha fatto questi vestiti? È stato pagato il giusto? Questa ragazzi è l'arma più efficace per innescare un'onda sismica di cambiamento positivo che può avere ripercussioni che vanno ben oltre la nostra immaginazione. Nel mio piccolo, io oggi, sono qui a fare questo lavoro e parlarvi perché quando lavoravo per una delle persone, delle aziende da cambiare, un giorno mi trovavo in un negozio, è entrato un ragazzo e dal nulla mi fa ma perché questa maglietta costa meno di questa e come è fatta questa maglietta, da dove viene? Non avevo la risposta. Non avendo la risposta ho detto devo cambiare e così si scatta, scatta proprio un'onda sismica di cambiamento positivo per mettere in discussione lo status quo dell'industria della moda e tutti noi abbiamo il potere di farlo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.